Allora voglio convincervi che siamo adesso tutti noi in qualche misura prigionieri dell'infosfera e che rischia che prossimamente le sbarre di questa prigione si potranno irrobustire e infittire non solo a danno del cittadino cinese ma anche per noi abitanti del democratico e privilegiato occidente. Allora approfitto della cosa per ricordarvi che ciò che permette la realizzazione di questi contenuti è mettere like, commentare, iscriversi al canale. Non costa niente, non vi costa nessun esforzo, fatevi ragazzi. Ma l'infosfera è forse la creazione collettiva più importante che l'umanità abbia mai iniziato a costruire. Una versione incredibilmente più enorme, se tutto andrà bene, durevole, delle sette meraviglie tutte insieme. L'infosfera è dove la nostra consapevolezza e la nostra coscienza prendono e potranno prendere vita e autonomia dal dominio della materia. Oppure è il vortice in cui tutte le nostre vite e individualità finiranno risucchiate. La cosa dipende in definitiva dalle scelte che faremo nei prossimi anni. Infosfera è un termine che non ha mai preso davvero piede, ma essendo un'immagine evocativa lo si è cercato di definire in vari modi. Il più immaginifico è forse quello di, virgolette, regno metafisico di informazioni, dati, conoscenze e comunicazione popolato da entità informative chiamate inforghe o organismi informativi. Non so se posso digerire l'uso del termine metafisico in questo contesto. lo sento e lo percepisco come qualcosa che forse non è puramente fisico, certo, ma che comunque esiste in forza della trasmissione di informazione tra individui e tra comunità, sempre dipendente dalla tecnica, se essa pure la tecnica del canta storica è perpetua e diffonde verbalmente la conoscenza della tribù o del pittore rupestre. Ma si può anche andare oltre, senza per questo necessariamente sconfinare nel metafisico. Nel mio video che vi lascio linkato, Menti quantistiche, ho già parlato della tendenza contemporanea nella scienza e anche altrove a dare corpo e consistenza fisica all'informazione. C'è anche chi ipotizza che ciò potrebbe gettare un ponte definitivo tra mente e mondo, addirittura. E questo ponte non potrà che esistere nell'infosfera. Secondo Roberto Finelli, in Filosofia e Tecnologia, l'infosfera è la concezione del mondo come scambio e messa in rete continua di informazioni, più precisamente come un luogo unificato e globalizzato da un processo permanente di accumulazione, calcolo e trasmissione di informazioni, il che non esclude per niente il condividere storie di caccia e di paura intorno al fuoco della grotta. L'infosfera esiste da sempre, essa è l'unione delle menti umane attraverso la tecnica, ma negli anni recenti essa si è estesa inglobando moltissimi aspetti della nostra esistenza nella sua frazione più strettamente tecnologica, il cibespazio. Questa considerazione marca una certa differenza tra infosfera, in senso generale, e cibespazio o villaggio globale alla McLuhan. Il cibespazio è infatti solo una parte dell'infosfera e se oggi esso ci appare preponderante, in definitiva potremmo spegnerlo improvvisamente, almeno in linea di principio. Potremmo prendere il cibespazio e farlo morire, anche solo temporaneamente, privandolo semplicemente dell'elettricità o colpendolo con un impulso elettromagnetico. Ma finché esisterà anche un solo essere senziente che percepirà il mondo, l'infosfera continuerà ad esistere. Se esisteranno due di questi esseri, l'infosfera li unirà e li ingloberà entrambe. Uno dei più noti pensatori ad occuparsi di questa materia, Luciano Floridi, si spinge ad identificare l'infosfera con l'essere, avventurandosi verso l'elaborazione di un'ontologia informazionale. Quello di infosfera è quindi un concetto quantomeno utile per iniziare a ragionare su quella che di fatto è una parte fondamentale della nostra esistenza. Il nostro esistere in forma di infornianismi, termine ideato proprio da Floridi, in una realtà informazionale, oggi è anche imprescindibilmente una realtà tecnologica che permea ogni momento della nostra esistenza. C'è stato che ha paragonato il nostro stato di immersione nell'infosfera con quello dei pesci nell'acqua e degli uccelli nell'aria. Immagine evocativa, quanto poco accurata e molto dipendente da come si interpreta il termine, come abbiamo visto. Ma di certo la componente tecnologica dell'infosfera oggi ne è una parte evidente e molto importante. Dedichiamo certamente più tempo agli apparati che compongono il ciberspazio piuttosto che agli aspetti dell'infosfera, quali il racconto intorno al foco. Ma allora perché sono partito dicendo che siamo prigionieri dell'infosfera? Perché la parte di essa che si è infinitamente espansa negli ultimi anni e che chiamiamo ciberspazio con terminologia anche un po' retro, è oggi governata da grandi corporazioni o da governi autoritari. Questa è una prospettiva che non possiamo accettare supinamente. È uno scenario a cui dobbiamo oggi opporre quella resistenza che domani forse diverrebbe impossibile. Nell'oggi si fa un gran discutere di intelligenza artificiale generale, usando una terminologia perfino un tantino goffa. Ciò che però abbiamo sono dei LLM transformer, cioè più o meno dei modelli linguistici di grande dimensione, trasformativi e le loro derivazioni. Ora, è solo una mia personale opinione, per quanto sempre più diffusa, che sia molto, molto improbabile che semplici miglioramenti incrementali degli LLM portino a un'intelligenza di livello umano, anche impiegando grandi risorse computazionali. Questi modelli al momento hanno assunto il ruolo di elementi fondamentali della crescita dell'infosfera, ma soprattutto sono da prendere a modello, data la loro grande attualità, per delineare l'evoluzione e le problematiche connesse alla crescita ulteriore dell'infosfera e dei suoi aspetti tecnologici, e quale potenziale gabbia per l'umanità. Infatti, mi sembra abbastanza pacifico e non avremo presto una GI che potrà dominare il mondo. Chi sostiene questo, sembrano faccia per meri scopi propagandistici e forse con motivazioni ancora più inconfessabili. È notizia di questi giorni che Elon Musk stia a fare costruendo una mega server fan chiamata XAI che inizierà con 100.000 GPU e poi salire fino a 200.000. D'altra parte, OpenAI e Microsoft insieme parlano di data center a venire riempiti di milioni di GPU. Una potenza di calcolo che mi suscita il ricordo di un vecchio racconto di fantascienza. Non so più scritto da chi, in cui l'infosfera, la somma di piccola conoscenza umana, raggiunge una massa tale da collassare in una singola Italia. Ora, come questi giganti rischiano di avere i piedi d'argile e come questi colossi finanziari rischiano di bruciare enormi quantità di soldi e di energie in un progetto che potrebbe portare solo a una serie di potentissimi ed enormi idioti sapienti, tecnologici, lo spiegherò altrove. Qui non faccio altro che accennare al fatto che enormi entità a tal livello di fabbisogno energetico e manutentivo, anche se diventassero davvero delle intelligenze divine, potranno sempre essere fermate con un robusto paio di cesoie. In più, come accennavo sopra, questo approccio muscolare all'intelligenza potrebbe semplicemente rivelarsi una chimera. Quello che però io credo questa gente stia cercando di fare è riesumare progetti visionari fino a poco tempo fa, oggi morenti sotto il peso dei fallimenti tecnologici, come, per dire, quello delle macchine a guida autonoma. Comunque staremo a vedere se riusciranno a trovare l'energia sufficiente e se le autorità dei luoghi dove queste grandi server farm si trovano non decideranno che perché è troppo e troppo, magari sotto il prossimo albero di Natale troveremo le AGI. Sono certo che il primo ad essere fatto fuori da una simile superentità sarà proprio Pazzerella e Luma. È più probabile, comunque, che anche con una tale potenza di calcolo la grande macchina non possa riuscire a surclassare il chilo e mezzo scarso di materia umidice alimentata a zucchero che ognuno di noi si porta dietro, tra le orecchie. Ciò però non toglie che un simile apparato possa diventare potenzialmente una grande minaccia alla libertà di questi grumi di materia grigia. Torniamo a un argomento un po' più concreto. L'aspetto dell'IA, come quello delle piattaforme social, come le infrastrutture che usiamo per comunicare e per far funzionare tutto questo, presentano un problema enorme. Qualcuno, tra quelli che non si aspettano l'imminente apocalisse Skynet, potrebbe pensare che il maggior problema sia che tutte queste tecnologie sono da una parte attrazione americana e dall'altra cinese. È certo un problema che gli europei dovrebbero iniziare a porsi, ma è anche un fatto. E non credo che in prospettiva, almeno per il momento, ci si possa fare molto. La nostra parte di mondo ha almeno la fortuna che questi apparati sono accentrati da un paese che con tutti i suoi difetti è il centro dell'impero di cui facciamo parte. Certo, ma che è retto da istituzioni che ancora tentano di difendere libertà personali, di opinione, per il nostro discorso non secondariamente, di impresa, ma che soprattutto non può fare a meno dei cervelli, dunque delle sensibilità di importazione dalle estreme propaggine dell'impero, come quella in cui viviamo noi. Il vero problema sullo stato attuale della nostra sempre più enorme infosfera, del suo lato tecnologico e cibernetico almeno, è che tutto questo è concentrato in mano a grandi corporation e nei casi particolari di Musk e Zuckerberg, addirittura affidata nelle mani di una personalità instabile di un perfetto idiota. Chi sia chi lo lascio a voi. Quello che è successo e sta succedendo a Twitter è emblematico, e non semplicemente come caso scuola, ma come vera emergenza democratica. Ma prima di tutto è importante chiederci, cos'è Twitter per il mondo umano? Qual è il suo ruolo nelle dinamiche dell'infosfera? Twitter, piaccia o meno, rappresenta il cardine della comunicazione informata di gran parte della nostra specie. Attraverso Twitter circolano le informazioni su ciò che accade dall'altra parte del pianeta, i giornalisti interagiscono con le fonti, le personalità influenti, fanno circolare direttamente le loro opinioni e, in definitiva, i filamenti, che costituiscono un importante tessuto connettivo tra le menti umane, si intrecciano in modi mutevoli su questa piattaforma. In questo segmento del ciberspazio circola di tutto e trovi di tutto, dalle informazioni più preziose al pattume più osceno. Ma un fatto è certo, Twitter ha rappresentato un'infrastruttura fondamentale per molti anni nei processi democratici e ancora oggi risulta insostituibile. Lo dimostra il fatto che, nonostante la sua conquista da parte di una personalità fuori controllo, che ha inteso a servire questo strumento collettivo al suo strabordante egotismo, l'attesa fuga di utenti non c'è stata. Questo sta succedendo perché, come un tempo non si poteva fare a meno dei giornali e delle televisioni, per avere una voce e per procurarsi informazioni, oggi non si può avere una voce e rimanere in contatto con la realtà del mondo senza essere su Twitter. Non se ne rende conto e c'è con un fenomeno ormai vecchio di quasi mentale. Molta parte dell'informazione mal digerita che è recuperata dai giornali proviede da un pugno di fonti, alcune giornalistiche e altre social. Ma tutte queste fonti sono collegate e articolate intorno a Twitter. Questo era stato fino a poco tempo fa un grande miglioramento per il contesto democratico, uno strumento irrinunciabile persino per chi voleva combattere i regimi autoritari a casa propria, ma che oggi subisce un processo di disgregazione e un attentato alla sua neutralità che ci deve davvero preoccupare. Ma è anche vero che ciò che è accaduto e sta accadendo a Twitter, trasformato nel parco giochi di una personalità che necessita qualche limite pedagogico, ci dà anche l'occasione per indagare su come possiamo reagire al predominio delle corporazioni sui mezzi di informazione moderna. Questa esperienza ci può anche aiutare a sfuggire a rischi futuri, connessi soprattutto all'intelligenza artificiale, rischi che non hanno niente a che fare con un'ipotetica e remota minaccia alla Matrix o alla Terminator, come li chiamo con mio figlio, film che hanno fatto la storia del cinema senza un buon motivo. Ma l'assai più concreta capacità di controllo dell'opinione e della libertà da più o meno scompensati attori privati o come nel caso della Cina e dell'Iran da parte di osceni e regimi. Come sempre, piaccia o non piaccia, gli USA in questo sono antisignani. Nasce alla fine dell'Ottocento in America la prima legge volta a impedire eccessive concentrazioni economiche e a limitare il potere di conglomerati che erano, a ben guardare, assai più influenti e potenti delle big tech attuali. La legge varata nel 1890 si chiama Sherman Antitrust Act dal nome del senatore repubblicano che ne fu l'estensore ed è tutt'oggi in vigore e ha colpito tra l'altro negli ultimi vent'anni sia Microsoft sia Google. Ma è pure vero che, d'altra parte, il Telecommunications Act del 96 firmato da Bill Clinton ha consentito la nascita di nuovi monopoli che stanno strangolando il pluralismo negli USA. E ciò che accade da questa parte dell'oceano è quanto pallido un riflesso di ciò che avviene di là. Quindi, qual è lo stato delle cose nella guerra non troppo silenziosa per il dominio dell'infosfera? Da una parte abbiamo concentrazioni irragionevoli di potere mediatico che consentono a enormi corporazioni di controllare i mezzi di comunicazione del pianeta e a pochi individui di controllare quelle corporazioni. Dall'altra il regime cinese che sta costruendo una costellazione analoga non tanto con lo scopo del profitto ma con la chiara intenzione di controllare ogni passo e ogni pensiero dei cittadini cinesi oggi, domani, congolesi, birmani, iraniani o europei. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a una potenziale deriva grazie a tecnologie sempre più invasive in cui l'individuo non avrà più quella modesta protezione istituzionale e politica che oggi gli rimane. Ma c'è chi mi chiede qual è la terza via? Qual è l'alternativa a queste due strade rivolte verso un futuro distopico? Il passato ce lo insegna e ce lo dice. Devono sorgere nuove leggi che spezzino il monopolio non attraverso la disgregazione e la statalizzazione di queste corporation che ci spingerebbe verso l'orrendo modello cinese di controllo di Stato ma tramite la sottrazione del controllo di queste società multinazionali dalle mani di poco o addirittura di uno. È già stato fatto prima con i conglomerati industriali poi con l'energia poi con le telecomunicazioni prima maniera e infine con le estreme concentrazioni radio-televisive. Oggi è urgente che Stati Uniti e Unione Europea si dotino di strumenti che mirino proprio a spezzare il controllo di pochi su questi che sono per sé patrimoni collettivi. Lo strumento per fare ciò sono, a mio parere, le public company all'americana o società ad azionariato diffuso detta all'italiana con delle stringenti regole che impediscano il controllo da parte di pochi ma che debbano tenere conto dei propri azionisti. È una forma di democrazia privatistica che in passato, con regole chiare, ha dimostrato di funzionare. In tal modo, volendo essere padroni per quanto marginalmente di una fetta di queste realtà che terminano le nostre vite non dovremmo fare altro che comprare un pugno di azioni. Io vedo questa come unica via d'uscita alla trasformazione dell'infosfera in una vera prigione con sbarre di controllo automatizzato dell'individuo. Ma so quanto è facile che tanti denari facciano pensare ai tycoon che la cosa più semplice è a soccomprarsi il politico di turno. Lo vediamo bene nella coppia tragicamente marchettistica Trump più Musk. Per questo, per obbligare i nostri corpi legislativi prima di tutto quello americano a varare norme in tal senso è necessario un vasto movimento di opinione e di resistenza per superare in peso e in gravità quello del quattrino con la massa della perdita di consenso. E anche se la base di queste compagnie negli USA il che potrebbe portarci a pensare che da questa parte dell'oceano possiamo fare poco o niente l'Europa unita è un mercato enorme per queste società e con le giuste leve normative si può esercitare una grande pressione su di esse per quanto, diciamo, a distanza. Così è visto nella disciplina innovativa sulla privacy di cui ci siamo dotati che ha fatto dal riferimento globale alla regolamentazione di questo altro aspetto dell'infosfera. Infine, paraprasando Voltaire dovremmo davvero iniziare a coltivare la nostra infosfera con un proprio diamante. ...evii pensi che stanno costruendo la infosfera una gigante memoria di duele la size di trei membri di memoria che è così male che è così male di questo? Si trattano a coltivare tutta la informazione in l'universo e lo trattare nella spher quindi si trattano a imparare le cose? Sì, questi bambini!